Noi il nostro candidato lo abbiamo già dentro il nostro cilindro, un paio di candidati ci sono. Li avete? Lo possiamo ufficializzare? Possiamo dire, abbiamo un paio di candidati ci sono già. Forti questa volta? Forti, persone che sono spendibilissime. Due candidati forti e spendibilissimi. Forza Italia li ha. È ufficiale. Nella corsa per la poltrona di sindaco di Vicenza, il centrodestra sa che è necessario restare unito. Nessun partito da solo può vincere, quindi è necessario condividere un programma schietto, con poche idee ma chiare, e convergere su un candidato che vada bene a tutte le fazioni. Al tempo opportuno noi usciremo, usciremo con il nostro candidato, speriamo che sia condiviso da tutti. Insomma, a Vicenza, dopo dieci anni di governo di centrosinistra e dopo aver perso nettamente due tornate elettorali, Forza Italia è pronta a tirar fuori dal cilindro non un coniglio, ma due cavalli da corsa. Un gioco di prestigio difficile, ma non impossibile. Certo, in questo momento nessuno fa nomi, perché significherebbe bruciarli, ma due indizi sui candidati di Forza Italia riusciamo a strapparli. Persone che sono realmente spendibili nel territorio, che finora per fortuna non sono usciti sul giornale. Imprenditori? Imprenditori.